segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te da lui è sopravvissuta all'arresto di rina di provenzano e sopravviverà purtroppo anche l'arresto di matteo messina denaro ho sentito troppi facili trionfalismi ho sentito parlare di chiusura di un ciclo mafioso come se le stragi o la strategia di attacco frontale alle istituzioni non potesse essere nuovamente adottata da cosa nostra chi conosce la storia di cosa nostra e delle mafie ma di cosa nostra in particolare sa che sanno adattare la loro pelle come quella del serpente al contesto sociale politico sanno cambiare le loro strategie se in questa tensione a pensare di aver inferto il colpo mortale assolutamente la guerra non è stata vinta contro la mafia anzi da un certo punto di vista oggi le mafie che pure non sparano non fanno attentati e non non hanno compiuto stragi negli ultimi 30 anni sono più difficili da combattere perché più subdole più nascoste più insidiose più penetrate nell'ambito importante di circuiti alti dell'economia e della finanza